Franco Fabri Butterflies in your stomach Acrilico su tela 90x90 cm L'emozione dell'anima prende vita nella scomposizione cromatica del supporto, immergiamoci in una lavorazione materica dove si può evincere come l'artista abbia indagato circa la sinergia del colore nella commistione della lavorazione figurativa che scompone il colore stesso. Circa la valenza simbolica del titolo sembra che Fabri abbia voluto incarnare le emozioni che come farfalle nello stomaco si addensano nel nostro io e nell'anima riuscendo a farci nutrire di sentimenti e di emozioni vitali. Value of time Acrilico su tela 90x90 cm Immergiamoci in una composizione astratta che indaga circa il valore del tempo, in cui Fabri, tramite cromie suggestive e numeri, vuole invitarci ad indagare sulla valenza del tempo. Orologi frammentati, lancette pronte a girare sull'intensità degli attimi vissuti, quanto vale il tempo? E quanto ne perdiamo dietro a cose futili, prive di alcun senso? Lo studio materico dell'opera ci coadiuva ad una riflessione intensa, profonda, volta a scavare nella nostra interiorità consapevole. Arido respiro Acrilico su tela 90x90 cm E respira l'anima mediante lo studio figurativo realizzato dall'artista, che indaga sull'introspezione dell'essenza umana, mediante le sue intense narrazioni poetiche. Si frammenta il paesaggio raccontando uno scorcio arido in cui la natura, silente, racconta se stessa. Le radici dell'albero in primo piano si diramano verso la porzione superiore, ripiegano verso il tronco, quasi a simboleggiare l'essere umano che si fa strada in un paesaggio arido, dove la natura risuona nell'essenza umana, respirando in un paesaggio indefinito, quello interiore. Valeria Guerra Jazz Le corde dell'anima dove il fruttore viene invitato ad immergersi in un tripudio di sinestesie vitali, plasmanti, una melodia dell'anima. Infinito Tecnica mista con marmo e acciaio e tessere in pasta vitria, 40x40 cm. L'infinito dei pensieri si materializza nello studio scultorio di Valeria Guerra. L'artista plasma una scultura mosaicata indagando sulla valenza dell'infinito. Osserviamo una composizione di incipi geometrico come si evince dalla disposizione delle tessere in pasta vitria. Si noti come queste protendano verso l'alto come se ci fosse una continuità fra spazio compositivo e spazio indefinito, animato dall'interpretazione soggettiva del fruttore. Paola Huller Messaggio numero Ea1959 Pigmenti, resina, cristallo e oro, 25x25 cm. Un'intensa poetica pittorica si anima nello studio materico dell'opera di Paola Huller. L'artista ci prende per mano, conducendoci nella parte più autentica del nostro io, intraprendendo un viaggio nei meandri della spiritualità dell'anima. L'utilizzo di materiali preziosi conferiscono all'opera quel senso di preziosità tipico dei gioielli. Osserviamo le forme dinamiche, i conflitti della lavorazione della resina e dei materiali con la quale l'artista ha plasmato lo studio pittorico. Contestualizzando lo studio proposto alla Huller, al titolo della pubblicazione, possiamo evincere come l'abbia strato una porzione di anima, trasmutandola in materia pittorica. Una sinergia che riverbera anche nell'opera Messaggio nella bottiglia numero 33, pigmenti in metalli preziosi uniti da resine ed incausto, 150x60 cm. Dove è una fontana cromatica da cui fuoriescono nuovi messaggi dell'anima dell'artista Paola Huller, che racconta un'emozione dove la luce diviene il soggetto portante. L'opera infatti cambia colore in base alla luce. Toni caldi con punti di oro e bronzo si sovrappongono, richiamando un simbolo pagano, simbolo di buon auspicio. Messaggio nella bottiglia numero 156, tecnica mista con pigmenti e metalli preziosi, 100x80 cm. Immergiamoci nella magia della vita raccontata da Paola Huller, la quale nei suoi messaggi nella bottiglia racconta l'universo interiore umano. Tecnicamente, oltre alla lavorazione preziosa dell'opera, l'artista decide di utilizzare dei pigmenti fosforescenti. I colori brillano, risaltano al di fuori dell'opera, conferendole un senso di trimidimensionalità, un dipinto camaleontico che intanca la percezione sensibile dell'anima. Giuseppe Iaria Gente a New York Acrilico su tela 55 x 65 x 3 cm Si frammenta il supporto nello studio materico delle cromie, dove l'artista d'abbile ad un'opera dalla narrazione astratta, capace di fondere uno sfondo informale con l'assetto figurativo. Interessante è lo studio geometrico del piano compositivo, in cui il dinamismo lineare conferisce un senso di profondità al supporto, al fine di concretizzare quelle raffigurazioni della poetica paesaggistica plasmati dal titolo dell'opera. L'artista immortale ha un attimo fuggente e materializza alle persone i profili dei grattacieli new yorkesi, al fine di invitare il fruttore ad immedesimarsi in quella poetica emozionale, dove hai il colore a scandire il senso armonico dell'opera. Una medesima armonia che ritorna nell'opera autunno a New York, acrilico su tavola 45x60 cm, dove è un paesaggio autunnale, questa volta ad irrorare la mente dell'osservatore. L'artista ci trasporta in un mondo interiore, materializzando lo studio figurativo del paesaggio nurrurchese. Osserviamo una narrazione materica scandita da una lavorazione a spatola e contemporaneamente a pennello, capace di conferire un assetto tridimensionale, dove gli alberi sembrano uscire fuori dal supporto, le fronde imbrunite dalle foglie che stanno per cadere sembrano inglobare il fruttore in quella narrazione prospettica che conduce verso i grattacieli di New York. L'artista ci propone un viaggio interiore in cui la materia cromatica permea nella percezione visiva del fruttore, avvolgendo l'anima e immergendoci in un viale di sinestesie vitali. Il pianista sullo stretto, acrilico su tela, 70x100 cm. Una narrazione poetica si anima nell'ultima opera proposta da Giuseppe Iaria. L'artista anche questa volta indaga sulla valenza prospettica dello studio del paesaggio, al fine di plasmo una narrazione realistica e dove il fruttore può immergersi. Osserviamo il realismo che permea nello scenario dell'opera mediante un lirismo pittorico scandito dalla commistione tra il paesaggio naturalistico e l'intersecarsi della figura umana che si interconnette armonicamente nello studio del paesaggio circostante. Possiamo quindi ascoltare l'eco del mare, l'ontananza, la musica che rende armonica l'anima e ci coinvolge nel tessuto emozionale dell'opera. Grazie a tutti.